clubhouse clubhouse ci siete più o meno dentro tutti e nelle negli ultimi giorni nelle ultime ore in realtà sono uscite tutta una serie di cose importanti che riguardano clubhouse dappertutto troviamo è stato buccato clubhouse hanno forzato clubhouse hanno hackerato clubhouse vero sì e no qui è un po più complessa la questione e ha a che fare con davvero che cosa sono le terze parti che cos'è un client come in realtà esistono delle falle ad ampio livello non della singola applicazione ma più grandi all'interno di applicazioni complesse e ne parliamo oggi beh con quelli che se guardate bene un po gli screenshot eccetera lo sapevano da fin prima di stanford e cioè con trend micro ma non proprio con trend micro non so se lo sapete ma gli italiani sono bravini in giro per il mondo e uno di questi è un amico ma ve lo presento dopo bella sigla io sono matteo flora e questo beh questo ciao internet come vi dicevo gli italiani sono conosciuti per rompere i maroni in giro per il mondo della sicurezza e anche per essere bravini non io è però ci sono un po di amici che sono bravini davvero uno di questi pretor federico maggi eccoti qua ciao federico ciao ciao buongiorno italianissimo ma senior security researcher in trend micro ma in realtà l'hai fatto per un po di altre realtà e sei la firma dietro a il vero eccolo qua vediamolo qui il paper e in realtà l'advisor di tutta questa parte di ricerca dietro a clubhouse hackerato lo so che adesso farei una faccia stifata assolutamente prima di vedere magari pezzo a pezzo il il paper su che cosa hanno trovato mi racconti perché so che che ce l'hai qui perché non è stato hackerato clubhouse in realtà che cosa è saltato fuori intanto di essere qui con me ci mancherebbe un gran piacere non è stato hackerato in senso stretto nel senso che è stato è stato utilizzato se vogliamo dirla veramente come sono andate le cose è stato utilizzato in maniera non conforme ai termini del servizio perché i termini del servizio dicono chiaramente che non si possono usare altri client quindi altri mezzi di consumo al di fuori dell'applicazione ufficiale che per ora c'è solo per ios quindi per dispositivi apple ecco salta fuori che dopo un po qualcuno giustamente vorrebbe poter utilizzare clubhouse anche senza avere a disposizione un telefono apple o comunque semplicemente vuole vorrebbe vorrebbe che sia una tecnologia un po più libera può succedere con 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 applicazioni nuove che che utenti vogliano vogliono capire come funzionano ed è stato proprio questo il caso c'è una serie di personaggi che si sono messi a studiare come come funziona e hanno scritto un client di di terza parte anche io ho scritto un client di terza parte la differenza che me lo sono tenuto per me ok nella prima settimana di febbraio me lo sono tenuto per me semplicemente per capire come funzionava l'applicazione e fine no mentre c'è qualcuno che l'ha pubblicato pubblicato il codice sorgente su su github e ne ha addirittura fatto un sito facendo in modo che sostanzialmente con un solo account ovvero l'account del povero sviluppatore che adesso è stato giustamente bannato per carità ha iniziato a restreamare scusate il termine pessimo comunque da fare restreaming del dell'audio che veniva da clubhouse però attenzione che non è che lui si è messo in mezzo con il suo server e ha detto adesso io mi ciuccio l'audio fuori da clubhouse e lo rimbalzo da un'altra parte assolutamente no lui offriva un client semplicemente basato su un'interfaccia web e non su un'interfaccia con un'applicazione con un telefono per cui era il client chi lo usava io te chiunque altro si collegasse a questo sito che riceveva direttamente l'audio da clubhouse quindi in realtà se vogliamo ben vedere è perché clubhouse per come è fatto adesso nella pratica è un pezzo è tanto scotch e post it attaccati in un'interfaccia carina davanti ma con tutta una serie in realtà il servizio vero non è sviluppato da loro nel report di stanford su questo ci va giù un po più pesante cioè sono tutta una serie di servizi di back end la parte dietro davvero che fa parlare le persone che sono di terzi in realtà questa persona si è attaccato senza guardare l'interfaccia carina il frame carino che hanno fatto direttamente di là corretto esattamente che di fatto è quello che fa l'app cioè se tu sei una persona con delle discrete skill di reverse engineering apre l'app e guarda dentro com'è fatta è esattamente quello che fa questo cioè fa un'integrazione fa un mashup di client di diverse parti c'è ad esempio per la parte audio c'è questo famoso agora per la parte chat che ancora non c'è però viene utilizzata per le notifiche c'è pub nab mi pare si chiami per per gli account c'è clubhouse e poi c'è i soliti servizi di analytics e quant'altro però alla fine è un client ecco molte applicazioni sono scritte esattamente così ma sì se ci pensiamo in realtà alcune cose non hanno nemmeno i client pensiamo al voip noi usiamo tantissimo telefonate anche senza saperlo tantissime le telefonate che andiamo a fare aziendalmente eccetera finiscono su un centralino voip a cui si attaccano n diversi client in questo caso i termini d'uso di servizio vieterebbero di usare altri client ma formalmente parlando nessuno ha male usato qualcosa o ha trovato un bug applicativo o ha trovato qualcosa di che è stato lasciato aperto ha replicato semplicemente le stesse funzioni che fanno normalmente il tutto è un po come mi ricorda quando eravamo più giovani ambedue che c'era quella quella quel programma che si chiamava trillian trillian era un multi client che aveva all'interno messenger icq eccetera sì 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 o meno la stessa cosa sì 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 assolutamente li purple esatto esattamente esatto sì 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 però allora allora premesso questo in realtà c'è una lunga un lungo expose di cose sì perché come questa premesso che questa cosa non è bucare la piattaforma ha comunque tutta una serie di implicazioni a livello di sicurezza dell'infrastruttura di clubhouse corretto sì è corretto allora ci sono una serie di quello che non intendiamo assolutamente sminuire ciò che è stato trovato da stanford anche perché è la stessa cosa che abbiamo trovato noi indipendentemente perché è vero che le chiamate non sono barra non erano cifrate dico barra perché ci stanno stanno rilasciando gli aggiornamenti e questo è stato un non si sa se un errore o quant'altro è vero che le librerie crittografiche erano vecchie ma tutto ciò può essere secondo me spiegato semplicemente con il sai classico rush di voler avere il prodotto fuori perché giustamente avevano subodorato che twitter facebook e quant'altro stavano correndo di fianco a loro e quindi sono dovuti uscire e qualcosa ci sta che scappano infatti loro hanno risposto molto bene alle disclosure però diciamolo quello sì hanno hanno risposto in maniera iper mega corretta hanno hanno risposto correttamente hanno detto ci stiamo lavorando anzi se volete rilasciarci altri comunicarci altri bug abbiamo un account su hacker one ora onestamente non ho verificato se l'account di hacker one si è stato creato o meglio quando si è stato creato l'account di hacker one perché onestamente non ho trovato pubblicizzato sul sito nessun contatto per la disclosure come in realtà dovrebbe essere fatto tipo anche solo il ma lì solo perché sei caga puntino da un punto di vista nel migliore dei mondi possibili ogni ogni piattaforma una parte dedicata chiaramente chiarissimo però sai ci siamo ok non hanno fatto non sembra che nulla sia stato fatto con con chiesa quale intento no ovviamente nel momento in cui tu trovi dei del codice che punta con con degli ipi cinesi parte subito non sai oddio mandano i dati in cina ti manda i dati in cina va bene perché la cloud che hanno scelto è quella di alibaba esattamente quindi è quella di agora che è basata a sua volta su 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 alibaba suppongo ma insomma è come se se un servizio europeo fosse basato su una cloud europea non mi sembra una cosa ecco a parte le applicazioni geopolitiche ma quello non sarebbero un problema loro cioè al massimo è un problema geopolitico di dire se vogliamo o non vogliamo che altre applicazioni che non hanno sede in europa possano funzionare ma esula da questo punto di vista però ci sono delle applicazioni non indifferenti sua cioè sulla possibilità allora ci riprovo il fatto che però non siano cifrate le chiamate quindi è possibile usare altri client fa in modo che io possa fare oltre a usare come un bravo utente semplicemente su android o su mac possa usare clubhouse questa cosa un po come era successa all'epoca dove non c'erano i controlli per lo scraping su facebook con cambridge analitica questo mi consente però anche di fare operazioni massive corretto certo corretto io io posso fare io aggressore o io compagnia di servizi di analytics poco ortodossa posso fare un client che ciuccia tutto quanto loro devo dire che sono molto molto stringenti nelle soglie ok quindi scattano molto molto in fretta e sì le cose sono migliorabili senz'altro però le soglie sono abbastanza stringenti le soglie significa che si arriva momentaneamente scusate per chi non per chi come me lui non è del settore se io provo a scaricare ad entrare in mille diverse chat contemporaneamente è il server stesso che mi dice bimbo buono tranquillo esatto 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 quindi questo devo dire che l'hanno fatto anche discretamente bene per essere un prodotto così lanciato molto rapidamente rimane il fatto delle chiamate non cifrate e dei metadati delle chiamate non cifrate che quello che stai facendo vedere adesso è esatto la demo che tra l'altro io ho registrato prima che stanford riuscisse a uscire il giorno prima se guardate nei log proprio un giorno prima vabbè ci sono i log vedete che c'è vento 11 2 2021 alle 3 29 del mattino perché il mondo è crudele tende a non dormire esatto il mondo è crudele comunque sì quello che fa cosa vediamo qua dentro scusa questa demo vediamo ad esempio io che entro con un mio amico in una chat privata quindi un lucchettino e a sinistra vediamo l'attaccante che è sulla stessa rete che riesce a vedere che io e il mio amico segreto abbiamo una chat segreta e riesce anche a recuperare chi siamo in questo caso l'altro l'ho oscurato però ecco si vedono i dati quindi questo può avvenire a diversi scopi può avvenire se ad esempio noi siamo in un aeroporto e c'è una rete wireless condivisa con tutti uno si aggancia e può vedere chi sta parlando con chi oppure può avvenire in una realtà un po' più critica penso ad esempio che so un provider dove può vedere chi parla con chi questo è benvenuti nel 2011 esatto se si fanno conversazioni che devono essere quantomeno riservate magari non si usa clubhouse ecco però non si usano cose nate apposta per quello no come signal o analoghe però il punto è che si nel 2011 non non vedo un motivo per cui non avrebbero dovuto non avrebbero dovuto usare la criptografia come si doveva no il codice era lì si può si può abilitare sicuramente lo abiliteranno però ecco niente di tutto questo è stato sfruttato per sfiltrare i dati e cioè lo ricordiamo ancora aspetta vai vai niente non abbiamo non abbiamo evidenza del fatto che nessuno abbia esfiltrato dati in questo modo evidenza che nessuno stia ascoltando ovviamente o che qualcuno non si stia mettendo lì a guardare io mi riferisco ai fatti che sono stati pubblicati recentemente anche ripresi dalla stampa italiana ma anche dalla stampa internazionale grossa sì che urlano parlano di data leak clubhouse data leak eccetera ecco questi data leak a cui si riferiscono sono in realtà l'utilizzo di questo client automatico di terza parte che permette di sintonizzarsi sulle stanze eccetera ma con un account vero cioè non è che hanno rubato è stato utilizzato un account dello sviluppatore mettiamola così ha fatto cioè ha fatto la stessa cosa che avrebbe potuto fare video registrando e mettendo audio e video il recording di quello che faceva normalmente con il client corretto sì corretto corretto con la differenza che lui non si mette in mezzo tra o meglio non si non c'è evidenza come giustamente ricordi tu che lui si sia messo in mezzo a registrare cioè questo sito che fare streaming non fa in realtà restreaming fa semplicemente un è un appoggio per permettere a chiunque di collegarsi a clubhouse senza un account ok è quella la cosa che ha fatto allora detto fuori dai denti è quello che la cosa che ha fatto un po incazzare sia me che federico e per cui stiamo chiacchierando un attimo perché con tutti i veri data leak che ci sono con tutte le vere le vere problematiche di qualcuno che ha preso enormi dati a cui teoricamente non avrebbe potuto avere accesso perché è parte del data leak e li ha pubblicati in modo massivo da un'altra parte eh con tutte le cose parlare in questo caso specifico di data leak è un filo impegnativo se non platealmente non corretto è solo quello il tutto c'è di più che qualche qualche notizia è andata anche un po oltre cioè mi sta bene confondere il data leak con una sfiltrazione massiva di dati vabbè ci può stare però lì da lì a dire c'è una falla di sicurezza ce ne sono altre di falla di sicurezza cioè non è quella la novità non è non è quello che è stato sfruttato per fare questa cosa qua non è che hanno messo hanno utilizzato un bug o una vulnerabilità o chiamala come vuoi per riuscire a sfiltrare i dati i dati erano disponibili sono stati utilizzati tutto qua nel nel documento visto che l'hai redatto tu a questo punto te lo chiedo c'è una parte finale però interessante secondo me tutta la parte di security recommendation che sono state fatte me ne vuoi parlare un attimo certo noi parliamo sia per gli utenti quindi l'utente finale di clubhouse ma non solo di clubhouse ma in generale anche delle delle io le chiamo audio centric social network perché ce ne sono e ce ne saranno tante altre a me sì anche perché facebook e twitter a questo punto twitter l'ha già rilacciato se facebook si sta muovendo esatto 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 quindi le raccomandazioni principali che facciamo tra per gli utenti sono sostanzialmente quella di usarle come come usereste un altro social network cioè assumendo che qualcuno stia registrando perché come io posso fare scraping di dati da facebook un altro può mettersi lì con un microfono se proprio non vuole usare cose sofisticate a registrare ciò che avviene in una conversazione senza informare violando i termini del servizio quindi quello che fate su clubhouse sappiate che nessuno impedisce a nessuno di registrarlo ce ne sono anche altre carine il fatto del impersonation di non ovviamente perché se tu vai a cercare che so un qualsiasi leader politico italiano non italiano trovi n account cloni con tanto di foto ma non c'è nessuna verifica non c'è la spunta blu come c'è ad esempio su twitter su facebook no quindi attenzione forse l'unico modo che c'è per distinguere se c'è una persona è veramente chi dice di essere e guardare se ha registrato per caso la l'account twitter se ha collegato l'account twitter o instagram a quello di clubhouse perché quello viene fatto tramite autenticazione quindi quantomeno c'è un legame autenticato e poi diamo una serie di raccomandazioni più per chi crea questi servizi per chi offre questi servizi che vanno dal dal banale cerchiamo di sviluppare le app come devono essere sviluppate ma è un problema un po comune a tutte le app perché può capitare che ad esempio ci siano dentro delle chiavi che devono essere segrete ed è stato il caso di alcune applicazioni che ho analizzato in questo sei notoriamente un rompipalle su queste cose sono pagato per rompere penso c'è chi mi paga per rompere le palle devo dire la verità ti conosco da tempi in cui ancora non ti pagavano ma lo eri lo stesso rompipalle è un piacere infinito ok e direi a questo punto che la lezione che clubhouse e anche altri hanno imparato è quella di utilizzare protocolli cifrati per trasportare tanto le chiamate quindi tanto l'audio ma anche i metadati perché sono decisamente importanti perché in caso di ascolto massivo può avere un'importanza fondamentale sapere che io e federico stiamo parlando soprattutto se federico non è federico ma è l'attivista per i diritti umani in un paese diversamente democratico che sta contattando Matteo che è il giornalista di inchiesta in giro per il mondo perché siccome ci sono stati che hanno questa buona e strana abitudine di impacchettare e smembrare all'interno delle varie ambasciate i giornalisti l'idea stessa che qualcuno possa massivamente prendere questi dati nel 2021 è follia lasciarla aperta semplicemente quello esatto altre cose carine che sono saltate fuori altre cose che ci siamo dimenticati di dire adesso saprete fatto che c'è un bel technical brief poi che ve lo metto in se volete approfondire direi che la cosa più che accomuna tutte qualsiasi social network basata su audio è che non dimentichiamo che l'audio non è per niente difficile da clonare o meglio la voce di una persona non è difficile da clonare un video è difficile ma comunque è stato fatto direi con risultati egregi perché qualunque deepfake fatto bene a risoluzione sufficientemente bassa vorrei vedere se si riesce l'audio è ancora più facile da ingannare tant'è che scusami da clonare per le sue caratteristiche tant'è che ci sono startup che lo fanno e anche aziende che offrono un servizio legittimamente perché ad esempio se io voglio doppiare un un video banalmente se ho bisogno di replicare la mia voce per dire altre cose ci sono delle ragioni legittime per fare tutto questo stiamo parlando di deepfake quindi stiamo parlando di clonare la voce inteso come tratti caratteristici cioè la voce clonata di matteo avrà questa orribile voce nasale da paperino e la r moscia ed è una cosa che viene usata sia per phishing la classica truffa del ceo in tempo reale dove clono la voce clono il numero sia per queste cose come dice federico ovviamente esatto perché unite tutto questo con il fatto che gli account non sono al momento verificati sì io posso crearmi l'account di personaggio politico molto influente molto chiacchierato prendo qualche qualche stralcio qualche scampolo di sua conversazione pubblica per copiare la voce con un computer neanche troppo potente posso parlare a nome di questa persona con la voce di questa persona eccetera io non ho un video davanti non posso autenticarlo no ovviamente queste credo che siano più o meno tutte le 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 criticità che sono saltate fuori buffo come spesso e volentieri ci siano più ricerche come nel tuo caso e quello di stanford in parallelo ma ci sta cioè è scoppiato di mano anche ai creatori di clubhouse credo negli ultimi sei mesi tre mesi sì esatto 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 perché non mi sento non mi sento di schierarmi dalla parte di chi punta il dito e basta perché insomma diamo tempo a chi sta creando questi questi strumenti di sistemarli ecco ecco federico è adesso fai finta di non esserci federico è parte di quella parte bella che mi piace del del security circle in cui è molto proattiva cioè esiste il rompere le balle come faccio io spesso e volentieri devo dire la verità io non sono così carino e coccoloso e così etico come spesso lo è federico e tanti altri e poi c'è chi invece ti dice no in questo caso come avete visto sarebbe stato facile dire l'ho bucato l'ho sfondato anche perché in realtà i giornali già dicono l'hanno bucato e sfondato e qui invece si parla proprio di un'altra cosa sì forse però è più utile per una cultura della sicurezza capire dove c'è il problema vero dove dobbiamo arrabbiarci dove invece magari dobbiamo arrabbiarci ma semplicemente perché l'azienda non ha preso quelle misure minime di gestione di un'analisi di rischio più che di sicurezza che nel 2021 però dovrebbero essere implementate anche senza che qualcuno rompi palle te lo faccia notare pubblicamente corretto assolutamente sì sì assolutamente questo non toglie non giustifica però è necessario un approccio un approccio diverso se vuoi proprio anche una cosa così che è un po' fuori tema però da da supporto a questo modo di pensare e di lavorare è stato fatto uno studio sul confronto tra i programmi di awareness dei dipendenti contro le minacce di phishing no quindi c'è il classico approccio è io mando un sacco di mail di phishing ai miei dipendenti e vedo quanti ne cascano e quelli che cascano gli dico ah no attenzione non devi cascarci ok questo è un approccio l'altro approccio è quello di mandare la mail di phishing aspettare che arrivi la mail di phishing mettersi lì di fianco ecco virtualmente ovviamente al dipendente e guardare e ascoltare quello che il dipendente ha da dire su quella mail cioè assisterlo nel capire perché lui è cascato quindi un approccio più se vuoi educativo che non da da analytics purifico esatto il secondo ha avuto risultati molto più efficaci in termini di prevenzione delle minacce in futuro quindi questo è un po' sì e dall'altra parte ricordarsi che non importa quanto stupido o frivolo il mezzo che io offro di comunicazione possa essere nella realtà se diventa molto utilizzato il mio la mia analisi del rischio deve mettere in conto anche dei rischi un po' superiori ad esempio in questo caso il rischio che ci sia uno stato paese attaccante e non semplicemente qualcuno che vuole ascoltare la 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 chiamata tra me e federico e quindi anche il livello minimo di sicurezza quando io inizio ad offrire un servizio che diventa una piattaforma utilizzata in contesto internazionale deve uniformarsi a un minimo a uno standard minimo forse più alto rispetto a quello che darei normalmente per l'applicazione del vicino di casa esattamente forse sì sì ok dove ti trovano in realtà è una finta domanda perché ti ho fatto mettere nel nel nick qui sotto retor su twitter lo trovate e poi su linkedin scrivi cose dove scrivi su su linkedin sì su il mio il mio sito maggi punto cc ok sono più attivo su twitter che che altrove per per brevità del mezzo per pulizia del del mezzo nel frattempo l'ho trovato e lo mettiamo che è qua eccolo qua grazie mille grazie mille matteo e sì ho fatto mi piace lavorare un po su diversi argomenti quindi troverete veramente di tutto su questo e un po dei peperini che ha pubblicato ma due pubblicazioni proprio così giusto giusto per far vedere che è l'ultimo è proprio l'ultimo degli stupidi che potevo portarmi qua in trasmissione tra parte il tuo hai lavorato un sacco con con zanero che invece conoscono loro che è venuto qua sono stato sono lui lui direbbe che io sono un suo errore cioè lui mi ha creato in qualche modo sono il mostro il mostro creato dal dottor frankenstein e sì perché io sono stato suo studente di di dottorato ho fatto la tesi di dottorato con lui e poi ho continuato a lavorare con lui poi collaborazioni di di varia natura commerciale e accademica sia con lui che con altre realtà però sì quindi stefano assolutamente una figura molto importante nella mia nella mia carriera no infatti stefano poi in realtà il bello è che chi 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 mi vede lo vede come il mio amico cui chiedo cose e si perde la parte accademica di stefano che invece è un po più 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 di di peso senti grazie mille per per il tempo grazie mille cioè poi è stato bellissimo il fatto che eravate voi che l'avete cioè tu che l'avete fatto uscire questa tu e il team avete fatto uscire questa cosa e quindi ci voleva raccontarlo così grazie del della chiacchierata grazie delle informazioni aggiuntive io vi lascio qua sotto poi i link per andare a leggere magari il paper completo ci vediamo la prossima prossima volta che buchi qualcosa dimmelo che raccontiamo possiamo farlo diventare una moda per quanto mi riguarda perché no perfetto ciao io faccio i saluti finali tutto qui allora intanto grazie mille a voi di essermi stati ad ascoltare ogni tanto ho la fortuna di avere amici come come federico che raccontano cose meglio di come l'avrei fatto io e poi raccontate dai protagonisti è un po più carino per il resto noi ci vediamo in un altro dei prossimi video magari non speciale da mezz'ora anche quello e come sempre e anche questa volta grazie mille per avermi ascoltato averci ascoltato in questo caso e stotte parti grazie mille a voi